bene non so se avete riconosciuto il suono iniziale ne avevamo parlato però sarà chiaro fra poco quindi la radio concludiamo questa unità didattica sulle telecomunicazioni con questo con quest'ultima sessione che arriva un po tardi ma la considero particolarmente utile a chi ha deciso di trattare questo argomento nella tesina quindi daremo qui qualche informazione sia riguardo al principio di funzionamento della radio sia riguardo alla storia e allo sviluppo di questa invenzione così importante perché importante perché come ho detto più volte possiamo considerare la radio come l'apparecchiatura capostipite di tutta una serie di altre apparecchiature che utilizziamo quotidianamente come la televisione come il radiotelefono intendendo anche il telefono cellulare come i sistemi di navigazione posizionamento satellitare gps un approfondimento sul radar potrebbe essere interessante per quelli che parlano della seconda guerra mondiale nella tesina i radiocomandi o telecomandi tutti sia quelli del televisore che quelli che ci consentono di aprire la portiera della macchina a distanza sia quelli con cui controlliamo i droni e così via tutti i sistemi wireless e tutti i sistemi senza fili wifi e le reti senza fili sono basate sulle radio onde e poi le telecomunicazioni satellitari sia la telefonia satellitare che la televisione satellitare poi l'invenzione dei radiotelescopi recentemente ci ha dato la possibilità di indagare le profondità dello spazio più remote eravamo rimasti al telegrafo come mezzo principale di telecomunicazione che cos'è la radio in fondo possiamo considerare la radio come un telegrafo senza fili di fatti le prime radio erano chiamate telegrafi senza fili o radiotelegrafi è un'invenzione del 1896 che si deve a marconi e il principio è che tra la stazione trasmittente e la stazione ricevente non ci sono cavi di collegamento elettrico la trasmissione dell'impulso elettrico avviene tramite onde elettromagnetiche quindi qui adesso dobbiamo entrare un pochino nell'argomento dal punto di vista tecnologico e andare a vedere che cosa sono queste onde elettromagnetiche come funzionano e come è possibile affidare alle onde elettromagnetiche la trasmissione di un impulso elettrico e sia chiaro fin da subito che il principio della telegrafia era lo stesso impulsi elettrici brevi e lunghi che dall'altra parte con l'utilizzo di un elettro calamita venivano tradotti in punti e linee dell'alfabeto morse tutte le basi teoriche per arrivare a questa invenzione erano state già gettate da fondamentalmente questi due signori lo scozzese maxwell e il tedesco hertz che cosa avevano scoperto maxwell per via puramente teorica aveva ipotizzato l'esistenza delle onde elettromagnetiche e la possibilità di produrle e la possibilità di trasferire energia tramite le onde elettromagnetiche hertz con una serie di brillanti esperimenti e comprovò l'effettiva esistenza di queste onde riprendiamo brevemente alcuni concetti tutto attorno a un filo percorso da corrente si crea un campo magnetico la corrente è costante il campo magnetico è costante ora sappiamo un'altra cosa se abbiamo un campo magnetico ad esempio un campo magnetico generato da un magnete permanente che cambia nel tempo ad esempio inverte velocemente la polarità là dove c'è il nord viene il sud e viceversa si genera tutto intorno un campo elettrico se avviciniamo un solenoide e variamo il campo magnetico possiamo vedere che nel conduttore si genera una corrente elettrica alternata segno quindi che abbiamo generato un campo elettrico variabile quindi se una corrente continua genera un campo magnetico fisso cioè invariato una corrente che cambia velocemente genera un campo magnetico variabile cioè un campo magnetico che continuamente cambia la polarità ma per quello che abbiamo visto prima sappiamo che un campo magnetico che si comporta in questo modo genera a sua volta un campo elettrico un campo elettrico variabile quindi in grado di generare un nuovo campo magnetico variabile che a sua volta genererà campi elettrici che genereranno campi magnetici e così via tutto questo si propagerà nello spazio in modo molto complesso e questa perturbazione del campo magnetica è quella che chiamiamo onda elettromagnetica maxwell aveva capito che ogni carica accelerata è in grado di generare un'onda elettromagnetica la teoria spiegava anche che questa onda elettromagnetica si sarebbe spostata con la velocità della luce e spiegava anche che la frequenza e l'intensità e la quantità di energia trasferita tramite onde elettromagnetiche erano proporzionali alla intensità della corrente delle cariche che si spostavano e all'accelerazione ora una normale corrente alternata non è sufficiente a generare onde elettromagnetiche sufficientemente potenti da poter essere rilevate strumentalmente bisognava pensare un modo per accelerare tantissimo una grande quantità di cariche la cosa migliore era sfruttare la scintilla nella scintilla infatti avviene un velocissimo trasferimento attraverso l'aria di cariche elettriche di una grande quantità di cariche elettriche che sono enormemente accelerate hertz pensò di utilizzare un rocchetto di rum corp di che cosa si tratta era un apparecchio che permetteva di elevare enormemente la differenza di potenziale tra due elettrodi e di ottenere tra questi elettrodi delle scariche multiple e ravvicinate nel tempo la corrente elettrica generata dal rocchetto di rum corp possiede una accelerazione è un intensità tali da produrre onde elettromagnetiche di forte energia ma come fare per mettere in evidenza l'esistenza di queste onde elettromagnetiche in sostanza l'esperimento che hertz condusse nel 1888 fu questo pose a una certa distanza da un rocchetto di rum corp un conduttore di forma circolare completamente isolato quindi senza che fosse collegato a generatori o a messa a terra così come lo vediamo questo conduttore presentava una piccola discontinuità quindi l'anello non era chiuso e il dispositivo in seguito venne chiamato antenna qual era la previsione facendo scoccare delle piccole scintille tra gli elettrodi del rocchetto di rum corp queste avrebbero prodotto generato un campo elettromagnetico quindi una perturbazione magnetica ma anche elettrica del campo elettrico nello spazio che avrebbe poi creato una corrente o una forte differenza di potenziale tra gli elettrodi dell'antenna e avrebbe fatto scoccare delle piccole scintille ovviamente tutto questo sarebbe avvenuto contemporaneamente dato che le onde elettromagnetiche come abbiamo detto viaggiano nello spazio alla velocità della luce e andò proprio così qui vediamo un filmato in cui viene ricostruito l'esperimento questi sono attori che interpretano hertz e un suo assistente e qui possiamo vedere che hertz aveva sistemato una piccola lente di ingrandimento ad ingrandire lo spazio tra i due elettrodi perché prevedeva che qualora le scintille si fossero prodotte sarebbero state comunque piccolissime ora qui vediamo che avvicina progressivamente lo strumento per quale motivo perché non conosceva la lunghezza d'onda delle onde elettromagnetiche generate dal rocchetto di Rumkorf andava a caso però trovandosi alla giusta distanza cioè in presenza di un nodo queste sono cose che vedrete in seguito rilevò effettivamente la formazione di piccole scariche elettriche in un conduttore completamente isolato dimostrando quindi che le onde elettromagnetiche effettivamente esistono e che sono in grado di trasferire energia e che se sono sufficientemente potenti sono in grado di generare correnti elettriche piccole correnti elettriche in conduttori isolati più o meno distanti dalla sorgente delle onde hertz si fermò qui non essendo interessato all'utilizzo a un'applicazione pratica di queste scoperte ed è qui che entra in scena marconi chi è guglielmo marconi è un giovane all'epoca molto giovane poco più che ventenne che è appassionato di fisica e conduce degli studi privati in questo campo e viene a conoscenza dell'esperimento di herz tra l'altro sembra leggendo un articolo in suo in sua memoria in occasione della morte un necrologio perché herz morì negli anni successivi all'esperimento descritto prima molto giovane e leggendo di questo esperimento marconi colse subito la possibilità di utilizzare le onde elettromagnetiche e la loro capacità di trasferire a distanza energia nel campo delle telecomunicazioni quindi per far funzionare a distanza il telegrafo senza che la stazione ricevente sia collegata tramite cavo alla stazione trasmittente però c'erano dei grossi problemi da risolvere legati tutti al fatto che l'onda elettromagnetica trasferisce sì una certa quantità d'energia ma suscita poi nella nell'antenna quindi nella stazione ricevente una corrente debolissima e che non sarebbe sufficiente a far funzionare nessuna macchina elettrica tra i vari meriti di marconi c'è quello di aver pensato di utilizzare il coesore per risolvere questo problema che cos'è il coesore è un dispositivo inventato qualche anno prima da un altro ricercatore italiano certo temistocle calzecchi onesti un marchigiano tra l'altro era un insegnante di liceo a fermo il dispositivo è molto semplice è formato da un tubicino all'interno del quale entrano due conduttori di metallo che non sono a contatto tra le estremità c'è un piccolo spazio riempito da una polvere di ferro cioè una limatura di ferro ora benché il ferro sia un materiale conduttivo quando è ridotto in questo stato cioè infine polvere offre un'enorme resistenza al passaggio della corrente elettrica e quindi il coesore si comporta come una forte resistenza o se vogliamo come un interruttore aperto cioè che non lascia passare corrente ma attenzione quando il coesore viene raggiunto da un'onda elettromagnetica per un motivo che tuttora non è chiaro diventa un conduttore cioè questo questa limatura di ferro da una forte resistenza che era si tramuta in un conduttore e quindi il coesore lascia passare corrente elettrica quindi voi capite che il tutto si trasforma in una sorta di interruttore che è aperto cioè non lascia passare corrente elettrica nello stato normale ma lascia passare corrente quando passa un'onda elettromagnetica quando viene raggiunto da un'onda elettromagnetica non so se avete colto l'importanza di questa cosa l'importanza è che si può aggirare il problema della potenza dell'intensità della corrente creata nella stazione ricevente perché perché la corrente elettrica che farà funzionare la macchina della stazione ricevente non sarà quella trasferita dall'onda elettromagnetica quelle debole ma l'onda elettromagnetica sarà appena sufficiente per attivare il coesore il coesore funzionerà da interruttore che chiuderà un circuito a parte alimentato con un generatore proprio vediamo di essere più chiari andiamo quindi ad analizzare il principio di funzionamento del telegrafo senza fili e quindi della radio inventato da marconi analizzando sia la stazione trasmittente che la stazione ricevente la stazione trasmittente è di fatto quella dell'esperimento di hertz ora marconi introduce delle migliorie la messa a terra i condensatori al antenne altissime però al netto di tutte queste cose il principio rimane quello al posto del rocchetto di room corfo c'è un qualcosa chiamato spinterometro ma è sempre un dispositivo in grado di suscitare scintille scariche elettriche frequentissime e molto potenti quindi la stazione trasmittente è composta da questo rocchetto di room corfo o spinterometro che sia collegato ad un interruttore del tipo del telegrafo è inserita all'interno del circuito una batteria e il circuito è chiuso così quindi la batteria serve soltanto ad alimentare lo spinterometro o rocchetto di room corfo e produrre scariche elettriche le scariche quindi non sono continue ma sono regolate dall'interruttore in brevi e lunghi secondo il codice morse ora andiamo ad analizzare la stazione ricevente dove troviamo il solito dispositivo ad elettromagneti che come abbiamo visto precedentemente quando è raggiunto da corrente elettrica richiama il pennino e scrive punti o linee a seconda se gli impulsi sono brevi o lunghi c'è una batteria la batteria è collegata con il dispositivo elettromagneti e il circuito è però completato da dal coerer abbiamo visto prima che il coerer si comporta a riposo come un interruttore aperto quindi in condizioni di riposo questo circuito aperto gli elettromagneti non stanno ricevendo corrente elettrica il pennino non scrive ma cosa succede quando nella stazione trasmittente scocca una scintilla si produce un'onda elettromagnetica che si propaga nello spazio arriva anche molto distante ricordiamoci l'esperimento del 1901 col quale marconi riuscì a trasmettere un segnale dall'inghilterra a terra nova quindi dall'altra parte dell'oceano atlantico quando l'onda elettromagnetica raggiunge il coerer per quel fenomeno che abbiamo presentato precedentemente il coerer diventa un conduttore e quindi si comporta come un interruttore che si chiude il circuito a questo punto è chiuso e può passare corrente quindi gli elettromagneti sono alimentati attirano il pennino e il pennino scriverà se l'impulso sarà lungo il pennino scriverà una linea se l'impulso sarà breve il pennino scriverà un punto ecco che abbiamo ottenuto un telegrafo che funziona a distanza senza bisogno che la trasmissione avvenga tramite fili quindi spero che sia più chiaro quello che spiegavo prima non è l'onda elettromagnetica che alimenta la stazione ricevente è questa batteria che l'alimenta ma la batteria è regolata dal coerer questo sì che è messo in funzione dall'onda elettromagnetica nel modo che abbiamo presentato ora questa è una spiegazione estremamente semplificata della cosa e non abbiamo preso in considerazione il problema delle antenne delle frequenze e tante altre cose però sappiate che il principio di funzionamento era questo bene e la tecnologia del coerer qualche anno dopo fu abbandonata e sostituita prima con le valvole poi successivamente con i transistor tra la fine dell'ottocento e gli inizi del novecento vennero costruiti dei grandi impianti di trasmissione e delle antenne di ricezione e marconi condusse le sue ricerche sviluppandole tra l'inghilterra gli stati uniti e l'italia nel 1901 l'esperimento che abbiamo ricordato prima quindi la trasmissione di onde elettromagnetiche tra l'inghilterra e l'america e inizialmente come sappiamo gli studi di marconi erano concentrati nel campo navale cioè a marconi interessava soprattutto fornire le imbarcazioni di una possibilità di comunicazione con la terraferma e arriviamo poi all'evento del fondamento del titanic e all'epoca marconi venne descritto come il salvatore in quanto inventore del telegrafo di centinaia di vite umane ecco vedete qui in una raffigurazione marconi è contrapposto a nettuno a quell'epoca erano già state costruite enormi stazioni con dei grandi scintillatori che producevano onde elettromagnetiche di forte intensità e in particolare in questa località che è una tenuta presso san rossore in toscana tra pisa e livorno marconi ottenne dal re d'italia vittorio emanuele terzo nel 1911 il permesso di installare una grande stazione trasmittente che qui vediamo ricostruita in questo filmato si tratta della stazione intercontinentale radiotelegrafica in cui c'erano vedete delle enormi antenne erano lunghe centinaia di metri e sorrette da piloni altissimi e poi c'era una palazzina all'interno della quale era allocato il scintillatore cioè questo dispositivo è capace di creare quelle scintille che poi generano l'onda elettromagnetica le antenne erano orientate in modo di poter comunicare con le colonie d'africa orientale che all'epoca l'italia aveva e con il nord america negli anni successivi la stazione venne ampliata e qui vediamo delle immagini dell'istituto luce così che servono un po a renderci conto delle dimensioni delle cose di cui stiamo parlando siamo ormai alla vigilia della prima guerra mondiale e durante la guerra mondiale come abbiamo detto la radio intendendo sempre il radiotelegrafo ovviamente quindi l'utilizzo del codice morse trovò applicazione sia in campo terrestre che in campo navale in particolare in campo navale venne messo a punto il radio faro o radiogoniometro che era una sorta di precursore del radar attraverso il quale era possibile conoscere la precisa posizione reciproca delle varie navi impegnate in un combattimento nel campo dell'aeronautica la radio venne utilizzata per stabilire contatti tra gli aeroplani e la terraferma ma venne utilizzata soprattutto nell'esercito come abbiamo detto insieme al telefono per garantire i collegamenti tra le linee nelle trincee e tra il comando e il fronte la guerra mondiale diede un forte impulso alla ricerca scientifica e tecnologica e per sviluppare strumentazioni sempre più ridotte come dimensioni e sempre più precise nel direzionamento e nella possibilità di selezionare particolari frequenze lunghezze d'onda ma soltanto dopo la fine della prima guerra mondiale intorno agli anni 20 con la messa a punto della tecnologia delle valvole si arriva alla diffusione tramite radio del suono quindi della voce e della musica all'inizio degli anni 20 inizia quindi in vari paesi del mondo il servizio broadcasting che cosa si intende con questo termine in italiano viene definito radio audizione circolare cioè esiste un emittente che non indirizza i propri messaggi a un destinatario particolare ma indistintamente a tutti come funziona oggi la radio e la televisione cioè chiunque abbia un apparecchio ricevente si può sintonizzare su un determinato canale ed ascoltare un programma ecco questa cosa inizia negli anni 20 ovviamente però a quell'epoca le famiglie che si potevano permettere un apparecchio radiofonico erano pochissime nel 1924 nasce in italia l'uri l'unione radiofonica italiana che era una società privata alla quale con regio decreto venne concesso di trasmettere in esclusiva programmi radiofonici nel nostro paese la violinista ines viviani donarelli nell'ottobre del 1924 diede ufficialmente inizio alle trasmissioni radiofoniche italiane a tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera sono le ore 21 del 6 ottobre 1924 trasmettiamo il concerto d'inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radio audizioni circolari il quartetto composto da ines viviani donarelli che vi sta parlando alberto magalotti amedeo fortunati alessandro cicognani eseguirà ai dal quartetto opera e quindi questo fu il primo programma trasmesso in italia alla radio ma a quell'epoca la radio aveva un seguito molto ridotto soprattutto in italia che era un paese assai povero le cose cominciano a cambiare intorno agli anni 30 quando il governo fascista mette in atto un vero e proprio programma di diffusione degli apparecchi radiofonici in italia al motto ogni paese deve avere la sua radio e quindi cominciano i progetti di radio rurale e radio balilla e innanzitutto si fabbricano degli apparecchi radiofonici di prezzo abbordabile e poi il programma radio rurale è più elaborato e questo apparecchio era acquistabile esclusivamente da scuole e da zone di riunione collettiva soprattutto di ambienti rurali quindi parrocchie di campagna sedi dell'opera nazionale balilla sedi del partito nazionale fascista e cose di questo genere insomma luoghi di aggregazione in modo che la radio che non poteva arrivare all'interno delle famiglie poteva raggiungere le persone laddove si aggregavano soprattutto le scuole ovviamente oltre che come mezzo di svago o di acculturamento la radio era utilizzata come mezzo di propaganda dell'ideologia fascista soprattutto nei giovani quindi radio balilla già dichiara l'intento di rivolgersi soprattutto ai più piccoli qui vediamo una scolaresca riunita davanti all'apparecchio di radio rurale che invitati invitata dalla dalla maestra fa il saluto romano e qua invece vediamo un'altra classe di bambini che fa la cosiddetta lezione di radiofonia in cui il maestro tra l'altro vestito da gerarca fa ascoltare ai bambini la radio rurale come potete immaginare una cosa simile era già accaduta in germania dove goebbels ministro della propaganda nazista aveva fatto in modo che fossero costruiti questi apparecchi radiofonici ve 301 particolarmente economici in modo che potessero essere acquistati da un vasto numero di famiglie tedesche ora questo fatto dell'utilizzo del mezzo di comunicazione di massa quindi tra questi anche la radio da regimi totalitari è un tratto comune a tutti i regimi di ogni tipo e quindi anche quelli esistenti tuttora e ovviamente un regime non si lascia sfuggire un'occasione così ghiotta cioè quella di sfruttare un mezzo attraverso il quale poter raggiungere tutti i cittadini ma soprattutto un mezzo che ti consente di manipolare la verità o addirittura di stravolgerla quindi rivolgendomi soprattutto a coloro che hanno scelto di parlare della libertà nella tesina e della relazione tra libertà e mezzi di comunicazione ecco suggerisco questa possibilità di ricerca ovviamente la rete pullula di notizie basta digitare propaganda o propaganda tramite radio o qualcosa del genere e trovate tante notizie mi raccomando come sempre state attenti alla fonte e valutate se è affidabile o meno e ci fu anche una propaganda di segno contrario di segno opposto a partire dal 1938 dopo la crisi di monaco la bbc cominciò una serie di trasmissioni nelle varie lingue europee e quindi diffuse anche in l'italia una stazione in lingua italiana chiamata radio londra e attraverso la quale cercava di fare controinformazione quindi di smontare la propaganda fascista a determinate ore del giorno di solito la sera cominciavano quindi queste trasmissioni in lingua italiana e alcune famiglie quelle interessate che possedevano l'apparecchio radiofonico si riunivano clandestinamente all'ascolto di questa emittente rischiando anche parecchio si rischiava il carcere le trasmissioni si intensificarono dopo il 1943 e arrivarono fino a quattro ore e mezzo durante la giornata in questo periodo questo tipo di propaganda aveva un preciso scopo quello di mutare nella maggior parte degli italiani la percezione che si aveva dell'esercito alleato l'italia stava subendo bombardamenti alleati mentre le truppe alleate avanzavano nell'opera di liberazione quindi si doveva fare in modo che fossero bene accolte cioè accolte come forze amiche i programmi radiofonici di radio londra iniziavano caratteristicamente con la lettera v battuta in codice morse quindi tre punti una linea e fatta con un tamburo dal 1943 in poi cominciò a trasmettere anche dei messaggi in codice dei messaggi rivolti alle unità della resistenza italiana quindi ai partigiani sono messaggi per noi assolutamente incomprensibili perché sono messaggi criptati ma erano chiarissimi a chi conosceva la chiave di interpretazione parla londra trasmettiamo alcuni messaggi speciali felice non è felice è cessata la pioggia la mia barba è bionda la mucca non da latte giacomone bacia maometto le scarpe mi stanno strette il pappagallo è rosso l'aquila vola parla londra abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali 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 Grazie.